Sembra di collare la trattativa che porterà Jacopo Dezzi a Pescara. Il giocatore piace molto al tecnico Massimo Oddo per la sua duttilità, essendo in grado di ricoprire un po' tutti i ruoli del centrocampo. Peraltro Dezzi è abruzzese di Roseto e si è fatto conoscere sordendo tra i pro a Giulianova, dunque vedrebbe di buon occhio il riavvicinamento a casa. Bisogna però trattare con il Napoli che ha appena riscattato dal Crotone la metà del cartellino e soprattutto bisogna attendere l'ok per il prestito dal DS Partenopeo Giuntoli e dal neotecnico Sarri. Quest'ultimo in particolare non disdegnerebbe di valutare da vicino il giocatore nella prima parte del raduno del Napoli per poi eventualmente farlo partire. Grossofermento poi comincia a registrarsi attorno all'esterno d'attacco Cristian Galano, giocatore mancino di grande talento, ideale per un 4-3-3. Il giocatore ha il contratto con il Bari che scadrà tra un anno esatto. Se non ci dovesse essere qualche azione di disturbo, ad esempio dell'Empoli, l'affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore con il Pescara che pagherebbe il cartellino ad una cifra ben inferiore al milione di euro. Per il centrocampo non c'è solo Dezzi, sbucano anche i nomi del 28enne Manuel Scavone della Provercelli e soprattutto del 19enne gioiellino della Lazio Luca Crecco nell'ultima stagione in prestito alla Ternana. Con il Frosinone va avanti la trattativa per la cessione di Uros Ciosic, il difensore è tornato a Pescara per fine prestito. La società Ciociara vorrebbe trattenerlo dopo la buona parentesi dell'ultima parte di campionato, ma il presidente Daniele Sebastiani non è soddisfatto dell'offerta. Il Frosinone mette sul piatto il figlio al prodigo Damiano Zanon, ma Massimo Oddo gradirebbe l'esterno d'attacco Luca Paganini. Sul fronte delle uscite sembra sopita, come detto nei giorni scorsi, la trattativa che avrebbe portato Liedin Memushay all'Empoli, ma il centrocampista albanese resta un giocatore richiesto e non è escluso che la trattativa con i Toscani possa riaprirsi o possa farsi avanti qualche altro club. In stand-by la situazione è legata a Gaston Brugman e il Bologna lo segue con attenzione e lo prenderebbe, ma il presidente del Delfino Sebastiani vuole monetizzare e farebbe partire l'uruguaiano solo ad una cifra che tocca o si avvicina ai 2 milioni di euro.